ciao a tutti voi dolci amici e benvenuti insieme nella città dei gufi dove quest'oggi ci divertiamo e giochiamo ma impariamo anche tante belle cose che poi sono importanti per quando un giorno cresceremo e diventiamo grandi adesso attento che cantiamo una canzoncina insieme noi siamo contenti ed insieme cantiamo cantiamo fai una giravolta dai falla un'altra volta alza la tua mano su facciamo festa ora fai un saltello ed il mondo ti sembrerà più bello se adesso tu fai un saltello il mondo ti sembrerà più bello saltiamo tutti insieme benvenuti ragazzi a questa nuova puntata sono l'81 ecco l'82 poi arriva anche l'83 l'84 poi l'85 dopo l'86 l'87 poi l'88 ed anche l'89 eccolo adesso arriva anche l'89 eccolo adesso arriva anche l'90 dai ripeti insieme a me sono l'81 poi l'82 dopo arriva anche l'83 poi l'84 e l'85 dopo l'86 l'87 arriva l'88 e dopo anche l'89 dillo ad alta voce insieme a me il 90 dimmi dov'è noi siamo contenti ed insieme cantiamo cantiamo fai una giravolta dai falla un'altra volta alza la tua mano su facciamo festa ora fai un saltello ed il mondo ti sembrerà più bello saltiamo tutti insieme ci vediamo alla prossima piccoli amici ciao